Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, bentornati sul mio canale e nel mio attuale spazio aperto. In questo angolo molto affollato qui dietro, a breve andrò a realizzare il ripostiglio che conterrà l'aspiratore che avete visto nel video precedente. Se ve lo siete perso, vi lascio il link qui in alto. I materiali sono arrivati, mettiamoci all'opera. Per motivi di spazio interno al vano che andrò a realizzare, ho deciso di girare a 45 gradi tutto il blocco motore e ventola di aspirazione, in modo da far entrare tutto nel perimetro della base. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.